Chi l'ha? Quasi muta Ciao amore Piccola Ehi hai paura? Paura dei botti Hai schiacciato? Uscito rosso Sta per scoccare la mezzanotte Ci rironeremo nel 2014 Abbiamo preparato i bicchieri Abbiamo già mangiato Dalle otto che stiamo mangiando Dalle otto e mezza Siamo pronti Quanto manca? 3 minuti Stappo lo spumante Stappo io Stappo lo spumante Mancano 24 secondi O a 10 Tutto Mancano pochi Dieci 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 3 2 3 3 5 6 7 7 8 Ciao bentornati a tutti Oggi primo tutorial del 2014 Pollice in su Vi ho messo un pezzettino del mio pazzo capodanno in Puglia Quindi spero vi abbia fatto piacere Quindi seguite tutti i passaggi al video tutorial per capire come andare ad seguire questa nail art sfumata o ombre o come la vogliamo chiamare Ho già steso la base collistar 3 in 1 Adesso prendo uno smalto numero 15 cupcake gel play debbie e lo vado a stendere su tutta l'unghia in una passata e lascio asciugare bene mi raccomando Prendo altri due smalti a loro volta delle tonalità quindi più scure e sono il numero 13 e il numero 14 Prendo una spugnetta a forma di triangolo e le vado a stendere quindi sulla spugnetta Non carichiamo troppo il pennello e aspettiamo che si assorbe sulla spugnetta il colore Vado quindi a trasferire il tutto sull'unghia Se risulta troppo chiaro vado a fare altre passate e così praticamente ripeto il procedimento Sul dito anulare ho messo un brillantino per impreziosire il tutto e infine ci ho passato un top coat Ragazzi il risultato finale della nail art sarà questo pollicino in su se vi è piaciuta e condividete il video su facebook se vi fa piacere Io vi rimando al prossimo video tutorial di nail art e se vi va lasciatemi sempre un commentino Ciao ciao un bacione Ciao 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 Grazie a tutti.